tesoro dove stai andando stai al bar con sofia a fare merenda va bene però stai attenta mangia soltanto cose che ti fanno bene ricordati che aspetti un bambino ciao piccolino vai con la mamma a fare merenda però non può ascoltarti perché è nella mancia ah è vero vabbè però secondo me qualcosa sente va bene allora divertiti però non andare lontano perché se dopo nasce il bambino dobbiamo correre in ospedale capito? sì e ci sarà anche una bella dottoressa non farà male ma no va bene allora buona merenda ciao ci vediamo dopo ciao serena hai avuto una bellissima idea venire a fare merenda in questo bar dove si mangia come in un picnic che ne dici? è bello? sì mi piace un sacco e soprattutto mi piace questo muffin che è già il secondo che mi prendo tra un po' mi verrà un pancione più grande del tuo a proposito come va? il bambino cresce? sì ma tra quant'è che deve nascere? tra un po' di questi giorni quindi manca poco eh sì mi sa che il bambino mi sta per nascere davvero? allora dobbiamo correre in ospedale via togliamo via tutte queste cose vieni con me vieni con me che ti porto in ospedale dobbiamo correre dobbiamo correre vai piano allora non ti preoccupare tra poco il tuo bambino nascerà così scopriremo anche se è un maschio o una femmina perché ancora non lo sappiamo secondo te cos'è un maschio o una femmina? a me è un maschio è più bello ah tu vorresti un maschietto? penso che a me piacciono di più le femminucce vabbè comunque lo scopriremo allora adesso vado a prendere tutto quanto perché dobbiamo fare il cesareo adesso arrivo vado a prendere tutto l'occorrente ciao ciao sono venuta a fare una carezza porta fortuna per il bambino non la toccare brutta strega vattene subito hai capito? via vattene ho detto ehi lasciami stare ero solo venuta a fare una cosa porta fortuna non ci crediamo vai via molto bene è tutto pronto allora sei pronta per vedere nascere questo bambino? sì o questa bambina? chi lo sa cos'è? allora procediamo con l'operazione vediamo cosa sarà un maschio o una femmina? o... una femmina una femmina una femmina una femmina ma è un coniglio ma è un coniglio è stata Ursula è stata Ursula adesso la vado la vado subito a riprendere ma Ursula dammi ancora il mio bambino ah adesso adesso mi volete vero? che cosa volete da me? ci direi il bambino e ti prendi il coniglio e perché lo dovrei fare? perché lei vuole dei bambini non ti piacciono i conigli ma guarda quanto è carino ho fatto solo un piccolo incantesimo e ho tra le trasportato il bambino da una parte e qui ho messo il coniglio non vi siete divertiti? no va bene va bene però dovete darmi un muffin non vi piacciono le torte? sì ma sto a dieta ecco il mio muffin va bene era buono allora adesso vi riderò il bambino Uga se bruga venite o venti del mar e riportate qui la bambina ecco fatto oh la mia bambina ah finalmente oh quanto sei carina amore posso tenerla un po' in braccio? va bene oh è adorabile io sarò la tua zietta preferita vero? eccomi scusate il ritardo mi sono perso qualcosa di importante sì che cosa tesoro? allora ma dov'è dov'è la pancia? quando nasce un bambino sei magro ah è nato il bambino allora è un maschio e una femmina era una femmina una femmina? evviva! beh a dire il vero per un po' è stato un coniglio comunque tutto è bene quel che finisce bene a dire il vero